Come hai detto tu siamo stati invitati a partecipare a questa Coppa del Mondo che si terrà dal 1 al 5 febbraio al Cairo in Egitto. Questa gara è importante perché vedrà la partecipazione di circa 6-7 mila atleti, quindi è una gara abbastanza importante. E vedrà anche un pizzico di Avellino, come il maestro Tano, partecipare a questa gara. Sei ancora in fase organizzativa, questa volta con te ci saranno degli sponsor ad accompagnarti, però non è escluso che ce ne possano essere altri. Noi abbiamo avuto già la conferma di alcuni sponsor qui di Avellino, quanti più ne potremmo avere meglio sarà per me, per la palestra e soprattutto per la città di Avellino che non è soltanto calcio ma anche sport minori come il karate. Come ti stai allenando? Perché immagino che tu abbia già iniziato qualche preparazione. Beh diciamo che non ho mai smesso dopo il Portogallo, anzi subito come sono tornato dal Mada ci siamo subito messi al lavoro perché già sapevamo di questa convocazione in Egitto e insieme al maestro stiamo lavorando per raggiungere altri obiettivi. Mondiale a parte ci sarà un'altra gara, un memorial ad attenderti a gennaio. Sì, teniamo questo memorial il 20 gennaio al palazzetto dello sport qui ad Avellino. Questa gara è un memorial per il nostro amico Nicola D'Amelio che è scomparso circa due anni fa ma che con il tempo, data la vasta partecipazione per ricordare questo nostro amico, è diventata una gara nazionale. Quindi ci vedrà noi della CESAM partecipare a questa gara che insomma è comunque un pezzo importante sia per noi che per la città. Farei soltanto il karateko oppure accompagnerai tua sorella nel ballo? Non lo so, non vi posso svelare niente però vi posso dire che ci sono grosse novità e preparatevi.